guardate quanta gente per le strade ormai a luna di notte ancora proprio c'è proprio il mondo tra l'altro qua 12-13 anni che girano da soli a luna di notte senza problemi proprio quando è così pericoli zero obiettivamente sembra tutta una festa di paese no sembra lo è c'è veramente un fiume di gente una marea ma una marea ma per esempio c'è un po' fatemi via e adesso io mi vado ammazzando un città di nette o un città di queste cose qua a questo livello di giochezza vedono pure loro quindi sono belli schierati di quanto si sono mossa guardate che belle cose che fanno qua parola d'ordine Nutella parola d'ordine Nutella Era troppo carina Cattati i balli infatti 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 Cattati i balli infatti